Novatero, Novatero perché? Perché tu non conosci il Pantanal, vedi questa pianta qua, come dicevo con lei ieri, adesso no perché non è più periodo, sono già sfioriti, però fino a due mesi fa, va neanche, due o tre settimane fa, e guarda quanto ce n'è, fino a due o tre settimane fa avevano dei fiori rossi bellissimi, capito? Tu vai lì, lo prendi, tac, ti ponza, una sola, due, tre, ti fa solo male e basta, ma male però, come ti rimane male per due o tre volte, però solo male, se invece ti ponono con le indiverse, hai anche il rischio di spaventare, anche quando andavo sotto con le bombole, mi dicevano, o i guanti, o non toccare, perché ci sono cose che tu non sai, che sono fatti molto male, per tutto, è molto pericoloso, è molto pericoloso.